buongiorno e benvenuti al mio podcast io sono leonardo durante globa di surprise 20 21 top 50 andiamo alla curiosità di oggi oggi siamo al liceo scientifico blaise pascal di pomezia sono felicissimo di fare una lezione di divulgazione scientifica con loro e in particolare ci siamo concentrati un po sul cambiamento climatico e io chiedo a questi ragazzi in particolare che da flavio oggi che cosa farei se avessi realmente il potere di cambiare le cose allora secondo me dovremmo concentrarci su un problema per volta magari risolvere prima un problema e poi piano piano iniziare a risolvere tutti gli altri magari concentrarci prima sul problema appunto della plastica che per me è il primo problema dell'inquinamento in questo momento e tu cosa fai ogni giorno è la raccolta differenziata magari cerco di evitare di buttare cartacce per terra plastiche per terra e cose così ma soprattutto da domani userai meno plastica esatto grazie flavio andiamo alla seconda domanda parliamo con simone simone se tu fossi un politico e ai soldi del pnrr come li spenderesti per ridurre le emissioni per esempio antropomorfiche oppure per ridurre la plastica o per lo smaltimento dei rifiuti cosa faresti allora io partirei con iniziando ad aumentare le classi di livello energetico a tutte le nuove attività o comunque i palazzi attività commerciali che si stanno costruendo con questo si aiuterebbe sicuramente a risparmiare energia elettrica acqua e gas investirei in startup su energia rinnovabile quindi startup concrete che serviranno per il nostro futuro vieterei la produzione di nuova plastica e incentivare incentiverei il riciclo della plastica attuale soprattutto come si sta facendo già da tanti anni l'utilizzo di borracce in metallo rispetto alle bottigliette di plastica che può sembrare una cosa stupida ma si sta dimostrando molto utile mentre per lo smaltimento ecologico dei rifiuti proverei ad aprire una centrale di smaltimento rifiuti modello copenhill urban mountain quella che sta in svezia che si sta dimostrando veramente efficiente e soprattutto si prende un sacco dei nostri rifiuti quelli italiani comunque da un sacco dei paesi europei e questo è quello che farei io se avessi i soldi del pnr pensi che questo modello possa essere applicabile anche in italia certo a quelle condizioni che senso quelle condizioni sicuramente dovremmo votare le persone e sì sicuramente ci saranno molti politici e piano piano capiranno che sicuramente la strada per prendere più voi sarà quella di puntare verso il futuro e verso cose più green quindi piano piano spero più velocemente possibile la rotta sarà quella di andare verso un futuro più green beh se ti candidi io comunque ti voto simone questa idea adesso invece parliamo con niccolò e vorrei chiedere a niccolò ma tu da giovane adolescente ai 17 anni mi pare no ti stai accorgendo di questo cambiamento climatico come lo vivi beh principalmente dal fatto che l'anno scorso in questa parte dell'anno eravamo già in calzoncini e quindi c'era molto più caldo mentre adesso siamo ancora diciamo tra virgolette in tuta con pantaloni lunghi quindi fa più freddo ci sono delle 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 piogge comunque che l'anno scorso non faceva però è quindi questa è la diciamo è una situazione normale rispetto a quella che c'è che c'è che c'è stata l'anno scorso e però non è così in tutto il mondo soprattutto nemmeno in italia per esempio l'altro giorno per esempio ieri in Emilia Romagna c'è stato un ubifraggio veramente pesante cosa che c'è stato anche negli scorsi anni qua nel Lazio io ti ringrazio Niccolò hai colto nel segno avete colto tutti nel segno e vi faccio i complimenti e in bocca al lupo grazie ancora Ciao